Ebbene a tutti ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video di GTA 5 online come avete detto dal titolo e come vedete sono in Shotaro, la remoto che ho comprato nel secondo episodio che non ha preso la registrazione ragazzi ma andate subito a vedere il video niente ragazzi aspettate un attimo Stavo mettendo a posto l'audio Allora ragazzi, adesso come avete detto dal titolo andremo a creare Jason di V13 qui su GTA 5 Lo dovete recarvi a un negozio padrone, poi io secondo me questo non è importante perché il completo ragazzi, se non lo sapevate, ci sono da tutti i negozi Allora, possiamo andare un attimo l'occhio Allora, ok, qui Ma cosa sono qui a fare? Dobbiamo andare al negozio di V13, i capelli ragazzi non servono a cambiare qualsiasi a casa Beh, è uguale Per i di Jason non ci sono Praticamente, cerchete là, ci sono diversi Jason Come vedete, lampeggio Dovete recarvi qui su, completi tutti e prendete tuta blu meddy Vedete io ce l'ho perché sembra un po' quella di Jason C'è grigia, smaricata rossa, così Sono belli, però questa è la migliore Poi ragazzi Ho anche Cioè bisogna adesso andare a recarvi nel vestrucino di Mask Quello è l'unico Il negozio che vende maschere in spiaggia ragazzi Un chilometro ci vuole per andarci Ok Andiamo per di qui Destra E poi Ragazzi, si può andare In un piccolo Allora La macchina Non cambia Qualunque Ragazzi Poi Dobbiamo Vedete ci stiamo recando Al giocattino di Mask Per andare a prendere la mascherina di Jason Ragazzi è difficile trovarla Io Ci ho messo 5-7 minuti a trovarla 5-7 minuti per una E ripeto Una maschera Sono un po' Tanti Allora Non è su animali Non è su niente Non è un animale Jason È su Io non mi ricordo più No è Mostri credo Sì ragazzi È mostri Allora Vedete Qui sono un po' Quella di Jason Vera È Vedete queste qui Fanno veramente Daure No Qui non c'è Quella di Jason No ragazzi No Stranissimo C'era No Non stava qui Allora Intimidazione Sì sì era qui Scusate Allora Intimidazione Bisogna andare su Come vedete Io vi porto questo video Non dovete stare a cercare 50 minuti Bisogna andare su Intimidazione E andare Sulla maschera Di Vedete Eccola qui Ok E bianca Su intimidazione Trovate Questa maschera Che è Simile a quella Di Jason Ma solamente Questi spessi Così Però È praticamente Come quella Di Jason Ragazzi Adesso Ci Rechiamo A Un Ammonation Per andare A prendere Per l'arma Di Jason Che quella Ragazzi Ce ne sono diverse Sue Però Dipende Cioè Uguali Adesso Ve le mostro Ragazzi Veramente Vicino Abbiamo Tutto Un Ammonation Molto Buono Sotto Tantissimo Mamma mia Che un po' Ho preso Ma Jason Non muore Mai Cheat Ragazzi Adesso Non muore Tutti Andiamo Di qui Di qui A sinistra Non tirare Tutti Mamma mia Oh Come Il petto Jason Non muore Mai Ok ragazzi C'è Un po' Che Di vita Tra l'altro Posso andare Adesso Perché sto Registrando Un video Esaminiamo Le armi Ragazzi E Eccola Qui Macete Mele Like Hell Ragazzi O Accetta O Se no Tiro pugnino Coltellino No Se no Ragazzi Questa Lascia La guerra Ma Mi Cata Gli animatori Ragazzi Con la benzina Il venerdì 13 Sembra un po' Venerdì 13 Ragazzi Quest'articolo L'ho già Comprato Solamente Per far Vedere Come Dovrebbe Essere Un Jason E Dove Si Trova Il Macete Eccolo Qui Ragazzi Abbiamo Abbiamo Questa Signora Così Sono Un Jason Sento L'un Pugno Vicendo Non Sento Un Accetto Che Mi Sangre Mi Cos'è Ma Jason Morite Morite Tutti Ok Ragazzi Però Jason Oh 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 Polizia Vuola restare a me Perché Non c'è Mentre C'è Non c'è C'è Non 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 c'è Jason Jason Ragazzi Che scappa Da La polizia Non c'è Non c'è Mamma mia L'ho morto Va bene Perfetto Allora direi di concludere Iscrivetevi Commentate Condividete Facete un bellissimo like E noi ci vediamo Un prossimo video